Cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi sta allogorando. Allora, devi pensare ad altro. Asci con gli amici, bevi una birra, devi pensare a te stesso. Sì, ma se vuoi si amare? Beh, sì, è già un po' malatticcio nei fetti, ma... Se poi non lo trovi un altro, sei carino, sì, ma... Sai com'è al giorno d'oggi? È difficile trovare qualcuno che ci ama veramente. Una brava persona, con dei sani principi, vado di morale. Vado a finire che vuoi resti solo. Tu non vuoi restare da solo. Guarda che la solitudine è una brutta cosa. Il fatto stesso che tu sia qui ora a parlare con noi nel primo sito. Credo veramente che sia arrivato il momento di pensare solo a te stesso. Pensare a te stesso. 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 Basta! Te stesso. Te stesso. Te stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.